Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 dicembre. Quali sono le cose fondamentali di giornata? Sono sostanzialmente due, ma sono più di due perché se ci mettiamo la politica estera e la Brexit ci mettiamo anche a vedere il futuro della MEI. Ma partiamo dall'Italia, cioè da Conte che secondo il Corriere della Sera cede, stiamo parlando del deficit, cioè sostanzialmente il deficit italiano che era stato portato al 2,4% dal governo giallo-verde, vi ricordate i famosi numeretti che interessavano poco, oggi arriva al 2,04%. È molto divertente, secondo me l'unico che se ne occupa, buongiorno a Luca, l'unico che se ne occupa oggi è Franco Becchisi, direttore del Tempo, che dice ma perché 2,04? Un po' come la borsa italiana che non apre alle 9 o alle 9.30 ma alle 9.10. Perché 2,04? Cioè fai due, fai due, uno, fai due, due, 2,04! Secondo Becchisi è un'invenzione geniale del bistrattato Casalino, l'ex grande fratello che oggi fa il portavoce di Conte, perché dice in questa maniera non abbiamo ceduto al 2, ma è meglio il 2,04 del 2,1. Non so quale è il principio, però non è esattamente il 2 che volevano gli europei, insomma per rompergli un po' le balle grazie a quello 0,4. Certo è che lo 0,4 dà il senso della stupidità delle norme, e cioè che 2,04 va bene ma magari 1,96 sarebbe stato meglio ancora. Vabbè, fatta questa premessa diciamo numerica che conta poco, secondo le interpretazioni dei giornali, Messaggero, Corriere, Repubblica, andrebbero a sforbiciare più quota 100 che il reddito di cittadinanza, ma questo ovviamente non può essere perché si devono recuperare 3,6 miliardi di euro secondo il Sole 24 Ore, in parte proprio da quota 100, cioè andare in pensione a 62 più 38 anni e reddito di cittadinanza. Non basterebbe iniziare soltanto a marzo, ma si metteranno clausole per cui sarà molto più difficile godere di questi benefici. Il Sole 24 Ore ci ricorda pure che questi 7-8 miliardi che sono stati recuperati per ridurre il deficit in parte derivano anche da un programma molto importante di dismissioni immobiliari, cioè lo Stato vende il mattone. Vedrete che poi i nostri amici della Lega e del Movimento 5 Stelle saranno costretti a vendere il mattone, gli unici acquirenti di mattone che ci sono in Italia, e cioè i grandi fondi internazionali. L'elemento che più è divertente è che tirano fuori il fake quotidiano e la verità, insieme come sempre, essendo molto filogovernativi, l'uno pro Grillo, l'altro pro Salvini, però in questo caso mi sembra di dare loro ragione, e cioè i due titoli di prima pagina del fake e della verità sono il fake, due ue, due misure. E l'altro, quello della verità, che mi sembra della verità, Macron sbracca, Conte resiste. Beh, un punto, un punto, allora, 2,04 nella dichiarazione è, vabbè, insomma un po' di commenti di voi su questo 2,04. Haug, Ludovico e Françoise adesso è ritornata. I mercati oggi stanno andando ovviamente benissimo, lo spread sta scendendo. Ma il punto fondamentale che questi due giornali mettono in evidenza è che la Francia sbracca perché arriva a un deficit del 3,5%, molto superiore rispetto a quello che l'Italia stessa voleva fare e lei stessa aveva previsto soltanto un mese fa, prima della protesta dei gilet gialli. Tutti bravi, tutti ben pensanti, tutte le persone intelligenti, tutte quelle che dicono, a cui fa schifo questo governo, dicono, beh ma certo, la Francia ha un debito pubblico molto inferiore dell'Italia, l'Italia 2005, l'Italia e la Francia 1,8 mi sembra. La Francia ha un PIL molto superiore dell'Italia, 2004-2005 la Francia e 1,9 l'Italia e sono tutte cose sacrosante. La Francia ha 50 punti base di spread rispetto al Bund, mentre noi l'abbiamo oggi che sta migliorando a 266. Insomma è evidente che la Francia ha una situazione di finanza pubblica più sana perché nel passato evidentemente si è comportata meglio, la sua produttività è cresciuta e quindi in quanto posizione più sana oggi si può permettere di sbracare un po' di più rispetto all'Italia. Buongiorno a Marco. Allora, tutto vero, tutto verissimo, ma qualcuno di voi è entrato nel merito della manovra che sta facendo Macron e come sta spendendo questi 10 miliardi in più Macron? Allora, i 10 miliardi che spende in più il grande europeista, il fenomeno, il banchiere di Rothschild, sono assistenzialismo puro, esattamente come quello che stiamo condannando al Movimento 5 Stelle e alla Lega. Perché Macron, amici miei, aumenta il salario minimo, che in Italia peraltro non esiste, di 100 euro e fa operazioni demagogiche soltanto per evitare che questi suoi gile gialli non gli facciano un mazzo così perché poi in Francia non scherzano. Allora, la demagogia francese va bene e quella italiana invece è fatta dai grillini populisti, oppure Macron può essere populista ma siccome ha l'inno alla gioia lui non è populista. È questo che mi fa veramente innervosire, cioè condivido il fatto che la loro situazione è migliore, ma la cosa fondamentale è che le manovre fatte da Macron sono le peggiori manovre che avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle, tutti zitti e pippa perché le fa Macron. Nel frattempo avremo il prossimo Macron in Italia, ce lo spiega il foglio quotidiano oggi e sarà Calenda, nel pezzo attribuibile al direttore, al mio amico Cerasa, Calenda avrebbe addirittura chiesto alcuni sondaggisti, alcuni imprenditori avrebbero chiesto alcuni sondaggisti di testarlo e farebbe un partito da solo e Calenda quindi benvenuto nell'arena politica dove dopo essere iscritto al PD adesso fonderebbe un suo partito. La mia associazione tra Macron e Calenda è molto semplice, il passaggio è molto veloce, cioè alla fine Calenda che secondo me è stato un buon ministro dello sviluppo economico, certamente molto meglio che Di Maio, ma insomma Calenda tra essere un buon ministro dello sviluppo economico ed essere un buon leader di partito io la vedo molto difficile. Comunque questi leader di partito organizzati dal foglio non portano grande sfortuna. Grande sfortuna ha portato la Brexit Teresa May che ieri secondo i giornali italiani ha fatto una vittoria, ma una vittoria diciamo di pirro perché ha rinsaldato il suo partito quindi non è stata sfiduciata, 200 voti a suo favore, 117 contrari all'interno del partito conservatore inglese, ma con la promessa che prima del 2022 lei si dimetterà, quindi non si candiderà più alla segreteria del partito conservatore inglese. Gli analisti che hanno scritto su questa vicenda della Brexit hanno detto che la Brexit è un gran casino e che gli inglesi vogliono ritornare indietro, ma non hanno analizzato il fatto che il gran casino della Brexit nasce nel partito conservatore al cui interno, come si capisce bene dai giornali di oggi, ci sono gli euro scettici che considerano l'operazione di uscita dall'Europa da parte della May troppo leggera, quindi è esattamente il contrario di come ve la stanno raccontando dal punto di vista politico e la politica conservatrice inglese considera troppo light l'uscita dall'Europa decisa dalla May, esattamente il contrario di quanto gli osservatori fanno intendere dicendo ci stanno ripensando. No, ci ripensano perché vogliono andarsene ancora più lontani. Buono, secondo me, il titolo del giornale oggi di Sallusti che dice Di Maio fa scappare la Fiat perché quello che avviene, la FCA, come si chiama oggi l'azienda internazionale che tipicamente uno considera italiana ma in realtà non lo è più, scapperebbe dai suoi stabilimenti italiani se in Italia dovesse essere introdotta la tassa sulla Panda, quella genialata che con un emendamento i grillini hanno posto nella manovra finanziaria. Se dovesse arrivare, via! Perché dicono già produciamo in Italia, poi ci costa di più, lo facciamo perché abbiamo accetto un po' di idea che siamo ancora un'azienda italiana, ovviamente non lo sono, poi voi ci penalizzate nella costruzione, nella vendita proprio delle macchine su cui noi siamo forti, cioè le Panda 900 e le macchine piccole, motori benzina e diesel, ciao belli! E oggi la Fiat non li trattiene più. Poi ci si penserà Di Maio a decretare la fine della povertà. Sulla vicenda di Corinaldo, la discoteca dove sono morte 5 persone, una donna di 39 anni, una mamma di una bambina che era andata lì, torna in libertà il 17enne sospettato, torna in libertà, in realtà è stato indagato per droga perché pare che l'abbiano beccato con due etti di coca, cioè 200 grammi di coca è una misura di detenzione di sostanze ovviamente non per uso personale, quindi al 17enne aveva 200 grammi di cocaina, ma questo lo rende spacciatore, non omicida, nel senso che non sono sicuri che lui abbia veramente gestito quello spray urticante che è stato il motivo per il quale poi è nato il panico e da quello ne è nata la tragedia. Intanto da registrare che il singolo di Sfera e basta scala le classifiche. Poi se la prendono con Serino che ha scritto un articolo secondo me molto interessante sul mio blog nicolaporro.it sul mio sito che sta spaccando la rete, nel senso che stiamo avendo moltissimi accessi e moltissimi ragazzi che gli fanno un mazzo così. Serino come ti permetti di dire che i morti sono causa di Sfera e basta? Serino non dice questo ovviamente, Serino non dice questo, Serino dice semplicemente che quella musica gli fa schifo, cosa legittima, ma comunque Gian Paolo, eccolo qua, grande Gian Paolo, il pezzo che vi consiglio di vedere, ti ringrazio anche per averlo scritto e il tuo esordio sul sito nicolaporro.it è stato un esordio diciamo con i botti, il sito serve per far parlare non per far stare zitti. Insomma quello che non capiscono i tanti adolescenti che scrivono a Serino è che la cultura è esattamente quella che vede oggi, il giorno dopo la strage, balzare in vetta alle classifiche il singolo di imbarazzante orrore di musica orribile che è quella di Sfera e basta. Possiamo definirla tale? Sì, la possiamo definire tale, non perché sia trap, ma perché mi fa schifo quella musica, quella là, esattamente quella, quel principio, poiché non sia quella musica a uccidere è ovvio che non lo è, ma quel contesto degradato a non piacerci lo potremmo dire, possiamo dire che non vogliamo vedere i 14 anni a mezzanotte e mezza ubriachi in mezzo a una discoteca senza uscite di sicurezza adeguate e senza i controlli adeguati, possiamo dirlo o siamo dei cinici cinquantenni, come mi hanno detto sul sito. Comunque, avanti Serino, avanti al sito nicolaporro.it. Sul Strasburgo invece, mentre noi siamo politicamente scorretti sul mio sito, i giornali sono talmente politicamente corretti come ci dice oggi Francesco Del Vigo sulla giornale, per cui, buongiorno ad Alessandro, per cui a Strasburgo l'attentato non diventa islamico, almeno nei titoli, perché si deve avere sempre un po' di prudenza quando l'attentatore uccide le persone con un colpo alla testa, se dopo 27 volte che era stato l'oretico oggi sui giornali, già fermato per rapine ed era radicalizzato, spara le persone sulla testa, rublando all'Akbar, ma noi non possiamo dire che l'attentatore è islamico, che l'attentato è di matrice islamica, che questo è un attentato con una motivazione religiosa. No, non lo possiamo scrivere sui giornali, questo scrive Francesco Del Vigo oggi sul giornale. Nel frattempo da registrare purtroppo che il giornalista italiano, a differenza di quello che in diretta avevo detto a Matrix, secondo le prime notizie non sarebbe stato grave, il suo ferimento in realtà è molto molto grave e di questo veramente siamo tutti addolorati. Direi che oggi Giordano, ecco Giordano, Mario Giordano sulla verità, l'ultima questione che riguarda Brexit ci ricorda come in realtà la polizia francese ha dato l'ennesima prova di sua incapacità o inefficienza, se volete dire. 720 persone sono oggi alla ricerca di questo attentatore che, vi ripeto, era stato individuato, secondo le cronache di oggi su tutti i giornali ve lo spiegano, ha sparato, la polizia lo individua, lo inseguono, lo inseguono i poliziotti e questo sta ancora dopo un giorno e mezzo ancora in libertà. È una cosa che uno non ci crede, non è Igor, questo è uno che era stato individuato mentre faceva nel centro di Strasbourg la città più blindata d'Europa, stava facendo i suoi 4-5 orribili omicidi. Direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, sul mio sito vedrete che ce ne sarà molto da discutere sulla questione di quattro occhi, sulla questione, vedete perché, e sulla questione di sfera e basta, oltre che degli attentati islamici di queste ore. Dopo 28 reati vari, poi rabbia, Françoise Raffaele è entrato ora ma io sto chiudendo, ti manca la questione delle targhe stranieri dopo il decreto sicurezza, non la so, manco fosse New York, beh insomma un abbraccio a tutti quanti voi, ci vediamo domani alla stessa ora con la zuppa e sul sito nicolaporro.it. Ciao!